È un investimento mai fatto prima dal Comune di Fano, quello annunciato oggi dal Sindaco Massimo Seria e dall'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Si tratta di 38 progetti da appaltare entro il 31 dicembre, per un valore complessivo di circa 14 milioni di euro. L'operazione è stata resa possibile grazie allo sblocco del patto di stabilità e al lavoro portato avanti in breve tempo dagli uffici tecnici comunali. Una volta eseguite le gare d'appalto i progetti saranno realizzati per la maggior parte entro il primo semestre del prossimo anno. Per confronto negli ultimi tre anni si sono fatti in tutto 1 milione e 300 mila euro circa di asfaltature. Quindi ovviamente mettere in campo per il solo 2016 4 milioni di asfaltature io credo che sia un risultato storico e straordinario per la città di Fano che va a coprire delle emergenze evidenti in tutta questa città e che comunque interverranno su tantissime vie ma non risolveranno definitivamente il problema della manutenzione stradale. Quest'anno, fa notare l'assessore, sono diminuite le richieste di risarcimento danni da parte degli automobilisti. Se nel 2014 erano ben 500, nel 2015 ne sono arrivate 180 in comune. I primi interventi presentati oggi in municipio riguardano la manutenzione delle strade per le quali sono previsti 4 milioni di euro per 6 lotti distinti. Il primo lotto di 749 mila euro comprende anche via Roma, via 4 Novembre, via Le 12 Settembre e via Antonio Gramsci. Il secondo lotto per 607 mila euro riguarda invece le strade di Carignano e Ronco-Sambaccio. Il terzo, da oltre 560 mila euro, comprende tra le asfaltature la strada di Mezzo a Rosciano, la strada comunale del cimitero di Rosciano e quella del cimitero di Bellocchi più via Prima Strada. Il quarto lotto di 864 mila euro riguarda la zona mare e il centro storico, tra queste via Mura Malatestiane e via Montevecchio, via Le Cairoli, via Caduti del Mare, via Dante Lighieri, via L'Adriatico, via Le Carducci e via Fabio Filzi. Il quinto lotto sarà da 518 mila euro. Verranno effettuati interventi anche in via Fanella, via Canale Albani, via Faddi Bruno a Torrette. L'ultimo lotto, da 550 mila euro, riguarda alcune vie di Gimarra, più via Mattei, via Luigi Enaudi e via Meda. Oltre a questi 4 milioni di euro per le asfaltature, è previsto anche il completamento di via Tognolo per 300 mila euro, oltre al risanamento delle coperture del municipio, della Sala dei Globi alla Biblioteca Federiciana e della Sala Grande della Pinacoteca per un importo di 360 mila euro. Il Teatro della Fortuna, invece, per la cifra di 40 mila. In tutti questi edifici, soprattutto, è una cosa che tengo a dire, installeremo una linea, una Lifeline, una linea vita che permetterà in futuro, e per sempre, diciamo, di intervenire senza la necessità di andare ad installare ponteggi oppure affittare degli strumenti che vadano su. Quindi, diciamo, diamo una risposta, direi, definitiva a un problema che comunque negli ultimi anni cede evidente a tutti.